La Confartigenato Imprese, Ancona, Pesero, Urbino, grazie alla collaborazione con Live, Laboratorio degli Intangibles per il Valore Economico dell'Università Politecnica delle Marche e la Camera di Commercio delle Marche, dedica all'intelligenza artificiale la diciannovesima edizione della sua Scuola per Imprenditori, l'intelligenza artificiale a misura d'impresa. L'intelligenza artificiale che per noi è un po' l'evoluzione del percorso che abbiamo fatto negli ultimi anni della Scuola per Imprenditori, della rivoluzione digitale. Quindi l'intelligenza artificiale ovviamente è l'ultima frontiera per quanto riguarda il digitale e sicuramente è una cosa che noi diciamo, anche le piccole imprese devono conoscere, devono sapere come utilizzare gli strumenti nuovi che ci sono oggi. Segretario, dall'evento di Pesero oggi tanti passi importanti. Sì, diciamo dopo il successo dell'evento di Pesero al Teatro Rossini, dove si è affrontato il tema dell'etica dell'intelligenza artificiale, oggi entriamo più nel vivo e partiamo dalla conoscenza. Quindi l'obiettivo della nostra associazione di Confartigianate è quello di offrire agli imprenditori una visione, una conoscenza dello strumento. L'intelligenza artificiale consentirà anche alle imprese artigiane di avere a disposizione uno strumento in più per essere pronte a rispondere alle emotivoli condizioni del mercato. Il percorso, totalmente gratuito per le imprese che aderiranno, sarà coordinato dal professor Gianluca Gregori, rettore dell'Università Politecnica delle Marche, e tenuto dal professor Luca Marinelli. Sei seminari in programma che prenderanno il via l'8 aprile per arrivare con due appuntamenti mensili alla 17 giugno. La difficoltà di ogni anno è di trovare una tematica, un argomento che sia interessante ma anche e soprattutto utile per le imprese. I numeri sono incredibili, oltre 1700 imprenditori formati, quindi da questo punto di vista un impatto, a mio avviso, anche sociale ed economico rilevante. Il percorso sarà articolato in sei seminari, inizieremo l'8 aprile per concludersi poi il 17 giugno, saranno due appuntamenti mensili, il lunedì dalle 18.30 alle 20.30, poi tutto il calendario lo metteremo a disposizione. Come diceva il professor Gregori, saranno lezioni molto pratiche, nel senso che scenderemo nel dettaglio di quella che può essere l'intelligenza artificiale applicata alle piccole micro imprese.